vi chiederete come mai un avvocato si diletti a scrivere saggi e addirittura romanzi come è successo a me con l'ultimo abbraccio di arcos editore diciamo che scrivere sicuramente un momento liberatorio nel mio studio che è un pronto soccorso entra di tutto entra gente che soffre gente che sta perdendo tutto la faccia l'onore i figli la casa e c'è quindi tanto materiale umano importante che ti spinge a raccontare tutte queste esperienze il romanzo l'ultimo abbraccio non parla direttamente della mia vita di avvocato ma parla di qualcosa che comunque in qualche modo ho toccato con mano le adozioni ma non è soltanto un romanzo che parla di minori o di adozione è un romanzo che parla di tutti di tutti noi chiunque potrà rispecchiarsi in questi racconti dove tante persone cercano di un riscatto nella vita devono combattere le loro sconfitte devono rialzarsi è un romanzo che fonda le sue radici tanti anni fa insomma io iniziai a scriverlo poi ebbi la paura di non riuscire a portare a termine un progetto così importante perché un saggio è una cosa il romanzo è tutta altra cosa poi ho sacrificato la mia vita privata ho sacrificato 60 o 70 weekend e ho portato a termine questo romanzo che anche piuttosto voluminoso e quindi sono riuscito a pubblicarlo il che non è facile attenzione oggi pubblicare un libro è sempre più difficile se lo fai con una casa editrice importante e questo per me già stato un segnale di grande positività perché se una casa editrice di pubblica un libro una casa dice importante con la di arcos vuol dire che siamo già a metà dell'opera ecco questo è un libro che secondo me dovrebbe essere letto un po da tutti è il periodo di natale penso che il regalo più bello più elegante meno oneroso per un libro e il il libro è un regalo per sempre un libro rimane nella tua libreria non si consuma non è una sciarpa non è un profumo ed è un momento di confronto io penso che la lettura la capacità di leggere tra le righe soprattutto questo tipo di romanzi che non è un romanzo ovviamente né poliziesco né un romanzo d'amore fino a se stesso è un romanzo che parla di tanti amori di tanti conflitti di tanti rapporti ma è sempre un momento molto importante io ho letto tantissimo nella mia vita e ringrazio i tanti scrittori che hanno mi hanno aperto la mente e mi hanno aiutato perché un libro a volte diventa il nostro migliore amico e ci dispiace quando finisce